La Falesia è nata per comodità, non so se siamo stati i primi, senz'altro tra i primi. Il bello dell'arrampicata è anche questo miscuglio proprio di generazioni, di stili di vita e di modo di vivere la Falesia e la montagna. Per forza si deve imparare a arrampicare, perché si andava su Farlegna, su quei sassi lì del San Martino, no? Farlegna perché non ce n'erano. La voglia di arrampicare e di ricerca della difficoltà. Fanno di quelle cose lì in palestra e poi anche in parete fanno quell'otto più lì, non so com'è quella tabella lì, si parlava di sesto grado allora. Il problema attuale delle Falesie è quello che non c'è rispetto per l'ambiente. Ha un fascino particolare, perché non è solo arrampicata. Grazie. Grazie.